Consigliere Camaglioni, commentiamo anche con lei i fatti dei giorni scorsi con questi arresti, ci sono state anche delle disattenzioni dal punto di vista dell'informazione. Lei però è stato anche sindaco di questa città e ha lanciato alcuni suggerimenti. Certamente, io partirei da tre particolari situazioni che hanno generato la nostra riflessione. La prima riflessione è che in ogni caso bisogna ringraziare le forze dell'ordine, le figure del GICO, della Guardia di Finanza e dei ROS regionali perché hanno compiuto un'operazione che va a portare benefici sicuramente alla nostra terra, di riflesso anche a Martinsicuro. In seconda battuta, chiaramente c'è stata probabilmente una sovraesposizione mediatica di Martinsicuro che la nostra città non merita perché qui non c'è un allarme vero e proprio. Credo che Martinsicuro ad onor del vero non sia il crocevia di quello che si è detto. Qui abbiamo invitato chi di dovere, i media o semplicemente anche chi possa aver fatto girare questa situazione, a fare chiarezza, a prestare più attenzione, quindi benvenga qualsiasi intervento preordinato a questa finalità. In terzo luogo non dobbiamo comunque minimizzare perché Martinsicuro presenta criticità, lo ha ribadito lo stesso sindaco, presenta delle criticità e su queste noi desideriamo lavorare in sinergia. Criticità che noi in passato abbiamo affrontato attraverso una cabina di regia con la Questura e la Prefettura, criticità che passano inevitabilmente anche per la presenza di luoghi di culto, per quanto è di mia conoscenza, che non hanno i crismi della regolarità e dell'ufficialità. Per cui ho suggerito in prima battuta di censire questi luoghi di culto affinché possano essere fruiti in totale sicurezza e non presentino né sovraesposizioni di persone per numero né tantomeno situazioni di dubbia finalità. Che comunque Martinsicuro presenta i suoi problemi, presenta situazioni come abbiamo evidenziato borderline che necessitano di un'attenzione particolare. Io voglio ricordare che tre anni fa, non appena si insediò il nuovo questore a Teramo, noi lo abbiamo invitato nella nostra città e in quell'anno proprio ottenemmo il posto estivo di polizia. Posto estivo di polizia che deve necessariamente tramutarsi in un posto permanente.